Ciao a tutti, io sono Edda, blogger e metterti la figurina. Per caso state cercando qualche idea creativa e divertente da proporre ai vostri bambini in un caldo pomeriggio d'estate? Allora vi do un consiglio, la prossima volta che andate in spiaggia ricordatevi di raccogliere un pugnetto di sabbia, qualche conchiglia e soprattutto dei ciotoli di mare di diversa dimensione. Dipingere i ciotoli di mare è uno dei passatempi più divertenti dell'estate. Basta un pizzico di fantasia, colori e pennelli e i ciotoli di mare possono trasformarsi in animali anti-simpatici o personaggi strani. Guardate che cosa ho realizzato in questo weekend. Vi presento la famiglia Sassonini, mamma, papà e due figli. Questo è il loro primo giorno di mare, sono in vacanza e non vedono l'ora di farsi un bellissimo bagno. In questo tutorial vi mostrerò tutti i passaggi per realizzare un quadretto così carino. Prendete il spunto dei miei personaggi e realizzate un quadretto insieme ai vostri bambini. Sarà divertentissimo inventare storie e personaggi nuovi. Scommetto che non vedete l'ora di iniziare, vero? E allora vi lascio al tutorial. Ciao, buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!